Barry, apri! Senti, ti volevo ricordare che nella scena precedente gli operai ti hanno contestato, ti hanno urlato contro. Non che se gliela ti... Sei sorpreso, sei preoccupato, nervoso, molto nervoso. Certo, Magarita, certo, certo. Va bene, ok, va bene, ha capito, su, va bene. Non piove, meno male. Barry, scusami, ti volevo anche dire una cosa. Ricordati però che tu devi s'interpretare il personaggio, però devi anche stare lì accanto al personaggio, capito? Next to the character. Dice che ha capito? Com'è? Ma la luce con uno schifo. È bellissima, è bellissima, è una meraviglia, guarda. Ma insomma, non mi sembra, ma non è che sembra finto? No, 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 per niente, per niente. Allora, dai, azione. Chi era quella ragazza del sindicato? Ma non guarda mai davanti, guarda... Beh, scusa. In front of you, Barry. Chi era... Chi era quella ragazza? Perché fa così? Perché fa così che... Stiamo andando dritti, in un ritirino fa così, ma è completamente... Ma aspetta, un momento. Ma non mi piace, perché no, perché è finto, perché è finto, perché è finto, perché sta sopra questo mammozzone. E dopo sei mesi chiuderebbe la fabbrica, ha mandato tutti a casa. Barry! No, no, aspetta, 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 un momento, un momento. Fanno scaldare. Ma dove mi hai portato? Che cos'è questo posto? Un imprendetore italiano, è il mio posto. Guarda davanti, Barry, guarda davanti. No, basta, basta, dai, basta, basta. Non mi piace per niente, è fintissimo. Stop! Stop! Ferma questo coso!